bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi tantissime novità anche oggi per quello che riguarda il futuro di fortnite e le novità sono veramente incredibili perché la storyline si sta complicando notevolmente si sta addentrando in qualcosa di veramente incredibile vi parlo proprio di una nuova società segreta scoperta ma vedremo anche il ritorno della vecchia mappa e anche un po di leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica del mio video news ma appunto ragazzi volevo anche anticiparvi qualcosa riguardante un possibile evento di questa season che sta appunto per terminare ormai non manca tantissimo abbiamo visto che però potrebbe essere allungata fino al 15 maggio ma ovviamente delle cose stanno bollendo in pentola vi faccio però prima alla domandina lo sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi molto importante ma secondo te qual è il miglior posto per luttare in questa mappa ci sono tantissime location io le sto provando un po tutte soprattutto in questi giorni dove stiamo livellando e per me il migliore è molly perché a molly ci sono più di 30 forzieri 12 13 casse di munizioni tanto tanto loot dimmi qual è secondo te il tuo preferito e il migliore qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e vando alle ciance andiamo subito a vedere una cosa molto interessante siamo ovviamente nei file di gioco ed è stato scoperto che mancano tre nuovi pack da decriptare vi ricordo che i pack criptati sono delle cose presenti in game che però ancora nessuno sa che cosa sono ce ne sono tre da 88 mega da 4,85 mega e da 36,84 mega la cosa che ci interessa ragazzi è proprio quello da 88 mega perché si vocifera che possa essere una versione per gli agenti a tema di Deadpool voglio farvi vedere un filmato guardate qua guardate qua ragazzi è incredibile non si capisce se sia un concept oppure no ma ci sono molte skin che come vedete hanno la colorazione di Deadpool il miascolo l'orsacchiotto la banana è il il visitatore di un'altra banana il pesce secco che non poteva mancare addirittura la skin iconica e incredibilmente vi devo dire che questa collaborazione con Deadpool in realtà potrebbe prolungarsi fino alla fine di questa season quindi ci starebbe tutto il fatto di avere qualcos'altro in più nonostante arrivino anche arriverà la nuova versione questo venerdì il nuovo stile senza maschera di Deadpool tanta tanta roba avete già visto un'immagine ragazzi che potrebbe essere relativa al secondo pack criptato quello da 4,85 mega e che dovrebbe essere il background musicale di travis scott come vedete c'è un concept della sua skin che potrebbe essere il terzo pack criptato quello da 86 mega e invece sappiamo che il background musicale è già stato inserito nei file di gioco potrebbe magari essere semplicemente shoppabile il file 4,85 mega a una dimensione sicuramente corretta per un file mp3 stiamo aspettando anche travis vediamo cosa succederà ovviamente nel futuro di fortnite ma andando avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi quello di cui vi anticipavo prima sembrerebbe proprio che l'evento di Deadpool si protrarrà fino alla fine di questa stagione lo dimostra appunto il contatore presente nei file di gioco se la season terminasse il 29 aprile terminerebbe così anche la collaborazione devo dire che è la più lunga che abbiamo mai visto in queste in questi anni di fortnite abbiamo visto marshmallow abbiamo visto la nike abbiamo visto la marvel abbiamo visto tante collaborazioni ma una così lunga quasi un mese veramente mai capitata tanta tanta roba a me sinceramente lo yacht così piace e quindi ben venga e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento di oggi si parla invece della storyline principale un leakers dice io ho una teoria riguardo la quale mida potrebbe associarsi quindi andare con la setta tra virgolette delle ombre quindi la fazione delle ombre e questo ci viene in poche parole anche spiegato guardando uno dei loading screen una delle schermate di caricamento dove vediamo appunto sia la versione di brutus che quella di sky in versione ombre e mida anche vi ricordo che per il momento mida non è selezionabile come come stile quindi abbiamo visto un trailer ma ancora non abbiamo la possibilità di sceglierlo e c'è anche questa immagine che è molto molto interessante un'immagine che da un bel po che sta girando nei vari forum nei vari come si dice nelle varie community dedicate a fortnite dove dovrebbe appunto esserci la fase 2 dell'agenzia perché fase 2 perché se guardate ci sono dei dettagli in questa fotografia che non sono ancora presenti in tra cui ad esempio il la statua lì sotto che è totalmente d'oro tutti i cornicioni sono tutti d'oro e questo potrebbe appunto essere è la versione più avanzata della nostra agenzia ma la cosa particolare in realtà sono proprio queste bandiere che come vedete ci vanno a mostrare tutto il logo delle ombre la cosa molto curiosa è che se andiamo nel replay molte volte non viene renderizzata l'immagine dell'agenzia e quindi come vedete ci sta tutto il fatto che non sia completa la struttura che vediamo in game potrebbe davvero evolversi modificarsi e prendere una fase successiva che magari andrà avanti anche nella prossima season nella season 3 ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi ed ecco quello di cui vi parlavo questo inizio video è stata trovata nei file di gioco una skin molto particolare perché molto particolare perché come vedete ve la faccio vedere in una maniera un pochettino più zoomata ha sulla spalla destra un logo che non si era mai visto fino ad oggi su fortnite abbiamo visto tanti loghi partendo dal logo di haim non so se vi ricordate nelle season del capitolo 1 che abbiamo passato abbiamo visto il logo delle ombre quello degli spettri ma se andiamo a zoomare la spalla di questa skin beh c'è un nuovo logo che non ci lascia che pensare che l'arrivo di una nuova società segreta possa ancora di più intersecare questa storyline che sta diventando veramente molto molto interessante tra l'altro vi consiglio se avete dieci minuti da perdere andate a dare un'occhiata ai video che sto facendo in questi giorni perché vi parlo proprio di tutti gli aggiornamenti che si stanno scoprendo appunto su quello che mida ha intenzione di fare in questa mappa che non è altro appunto che la distruzione della stessa c'è il doomsday event c'è una macchina di distruzione che abbiamo già visto e che ancora pubblicamente non è disponibile insomma ragazzi tante tantissime novità volevo farvi vedere l'ultima cosa prima di salutarvi perché è una curiosità davvero molto interessante e ve la faccio vedere con un video guardate ragazzi allora questa alzo anche un pochettino il volume questa che state vedendo ragazzi è una delle skin inserite nell'ultima patch che cosa di particolare questa skin beh ragazzi questa è la prima skin in assoluto che ha un suono personalizzato nel momento in cui si mira vi faccio ascoltare sentite come il suono nel momento in cui l'arma prende la mira è totalmente diverso da come siamo abituati potrebbe essere l'inizio di una nuova e ulteriore personalizzazione al nostro sound oppure ad alcune skin insomma ragazzi tante novità anche per oggi per quello che riguarda fortnite io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e adesso mi trovate in live su twitch ciao